Il rischio che io diventi workaholic non c'è. Per me la mia vita privata e quello che succede fuori dal lavoro è importantissimo. Io ho delle passioni molto semplici ma molto molto amate, gli animali per la natura, per i cavalli, per la campagna, per la montagna. Appena posso mi fiondo diciamo al di fuori di tutto quanto e mi occupo di questo, della mia famiglia, del mio fidanzato, di stare, di mangiare tutti insieme, di cucinare, di fare tutte cose che non si fanno al lavoro.